Corrado è morto. Il popolare presentatore era malato gravemente da cinque mesi. Bonario e Sornione, rassicurante nella sua ostentata normalità, Corrado è stato per oltre 50 anni un amico degli italiani, prima alla radio e poi alla televisione. Con la sua voce inconfondibile, il fare ironico ma mai sprezzante, con la sua simpatia affettuosa, Corrado ha fondato il suo successo sulla familiarità, dote comunicativa che aveva nel sangue. Era nato a Roma il 2 agosto del 1924. Alla radio, dove era entrato giovanissimo nel 1944, gli capitò di annunciare due eventi storici, la fine della Seconda Guerra Mondiale e la fine della Monarchia. Trasmissione simbolo fu la corrida, culto della radio degli anni 60, esportata poi in tv nel 1986. Nel 1976 inventò Domenica Inn, poi nel 1982 il divorzio dalla Rai. Lo accoglie Silvio Berlusconi in Fininvest, dove Corrado conduce con grande successo prima il pranzo e servito e poi la corrida. Da tempo viveva qui, nell'attico di via Suvereto 179, insieme alla moglie Marina Donato. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Ascoltiamo il ricordo di amici e telespettatori. Maestro De Lucia, lei ha conosciuto Corrado, lo ha frequentato e ha lavorato insieme. Come lo ricorda come uomo e come personaggio di spettacolo? Innanzitutto sono veramente addolorato, ma veramente come tante persone, della sua morte. Beh, io devo dire una cosa, era il romano simpatico, perché i romani sono tutti simpatici, ma una cosa era bella di Corrado, la discrezione. Cioè lui era molto discreto, lui non ha mai strafatto, non si metteva mai troppo in evidenza. E poi quel po' di sornione, è una cosa bellissima che molti presentatori non hanno, che lui rispettava molto l'ospite. Infatti lui non ha mai preso in giro, mai sminuito un ospite. È un personaggio simpatico, è un grande dello spettacolo, è anche un esempio per i nuovi conduttori di oggi. Bellissimo, bellissimo, è una persona molto gradevole e poi divertente, insomma, un uomo di spirito e anche un gran signore, penso.